allora ringrazio paolo delle piane per la nomination che ha fatto e iniziamo la nostra corsetta grazie a paolo se sei un amico questa cosa qua della storia che sono social poi poi ne parliamo e io e te iniziamo questa corsetta in siamo le nostre nomination quindi inizio la mia corsa e nomino per primo assolutamente per primo e voglio anche un ringraziamento per questo un mio calciatore paolo benzi perché tanto lui non corre mai durante l'anno vi posso garantire che non corre mai almeno lo facciamo correre d'estate però gli voglio bene quindi lo nomino per questa corsetta visto che sono stato chiamato in causa in questo giochino estivo secondo giocatore che nomino è il nostro capitano luca bocchiardi il metronomo perché lui fa l'attaccante ma un metronomo e quindi tanto lui ha detto che già corre corre tutto il tempo per cui non avrà assolutamente alcun problema due terza persona che nomino è un amico adattato e io ogni stato io rompo le palle di a giocare da me vieni a giocare da me ma non ci viene e quindi gli voglio bene lo stesso però è però comunque alessandro savona quindi alle dai comincia a farti una corsetta che devi mettere in corso in forma perché campionato è lungo quarta persona che voglio nominare la persona che con me all'atletico è dall'anno scorso ma mi segue ovunque ed è corrado franco poi mi faccio una risata perché ti voglio vedere correre assolutamente quarta la quinta persona che nomino è una persona che ho il piacere di rincontrare il prossimo anno il campionato di seconda categoria e che ho avuto il piacere di allenare con cui ho vinto anche un campionato e ho ottenuto una promozione e da Emanuele Bellona quindi Manu anche te corsetta e ringraziamento al mister per questa nomination poi passando dai giocatori passiamo un attimino a anche chi sta dietro la scrivania e quindi nomino assolutissimamente una persona che stimo per stile per come fa il suo lavoro e perché mi piace come si pone e per come dice le cose e che è Matteo Cantile quindi Matte nomination anche per te e mi raccomando ti voglio vedere correre sarà uno spettacolo tanto Paolo ti ringrazio perché oggi in Puglia ci sono solamente 34 gradi anzi ieri ce n'era 35 a Ostuni sei un amico dopo Matteo Cantile voglio tornare a nominare un calciatore che quando corre un po' di più sclera mi comincia a dire io non posso correre per tutti e quindi nomino con piacere e con grande affetto perché vi voglio bene il grande Marco Menegatti il mio calciatore centrocampista dell'Atletico e ultimo ma non per ultimo e voglio cacciarti di questa mia nomination per diciamo congratularmi con lui per il suo approdo ufficiale alla Fiorentina un amico il mio amico Alberto Manangon diciamo che sia di buon auspicio per la tua avventura a Firenze che dire sei l'ultimo ma non ripeto per importanza ti auguro ogni bene a Firenze però come ho già scritto per messaggio forza Doria sia l'andata che a ritorno un abbraccio a tutti ciao dalla Puglia ultima settimana di ferie forza Atletico permettetemelo grazie